Nando Del Sole, dopo questa amichevole colortona, si guarda alla gara di sabato in Terra Ligure con lo Spezia. Una gara importante perché Pescara vuole dare continuità alla vittoria con la Provercelli. Sì, ogni partita vogliamo dare sempre soddisfazioni alla città per fare bene, per prendere continuità. Qui siamo tutti utili e nessuno è indispensabile. Una volta gioco io, una volta gioco un altro. L'importante è che uno pensa ad allenarsi, migliorare giorno dopo giorno. Sono un ragazzo, ci sta che si sbaglia, ma faremo in modo di non ripeterlo. Si guarda questa gara di sabato, ma per te, al di là dell'impegno di settimana dopo settimana, questa stagione è davvero importante. Sei un giocatore della Juventus, sei a Pescara, sei con Zeman, un maestro bravo a lavorare con i giovani. Come ti stai trovando con il tecnico Boemo? Ma è inutile parlare sempre delle solite cose, già l'ho detto. È un sogno di tutti i bambini essere allenati da un allenatore come il mister Zeman. Ho questa fortuna e voglio sfruttarla nei migliori dei modi. Anche se il mister ha tanta fiducia in me, spero di ripagarla il più presto possibile. Una stagione importante a livello personale per il Pescara. Secondo te l'obiettivo dei play-off è un obiettivo tranquillamente raggiungibile quest'anno? Ma secondo me sì, la squadra è forte, ci vuole solo, come avete detto, continuità. Secondo me ci possiamo togliere delle belle soddisfazioni.